Ennesima edizione di Strelka, prima di partire voglio dire una cosa, non è illegale, perché hanno scritto Cicalone, combattimenti illegali, non è una roba con le scommesse, ma è una roba organizzata con tanto di federazione, con tanto di ambulanza, con tanto di certificati medici e controlli, perciò prima che iniziate a scrivere si menano, si fanno male, tutto quanto, sappiate che invece è tutto regolare, questa volta addirittura sul ring, prima colpiva molto perché si faceva su un prato, si faceva sulla spiaggia, si faceva nei posti più impensati, questa volta si fa in un ristorante, questo è un ristorante con il ring al centro, palazzi popolari, guardate dove la gente si affaccia, Alfio, ma che stai a fare là? Quello è Alfio, noto camorrista criminale della zona, viaggia a raccontare i precedenti, dai scendi, ti faccio entrare gratis. Kimbo Style, ripreso dal vecchio Kimbo Slice, poverino, che è defunto da qualche anno, è morto a 43 anni perché ci ha avuto una vita intensa, detto questo, sul ring vedrete botte a tutti i livelli. La differenza questa volta è che ci sono le ring girl, basta avere questi ominizzozzi, nudi, con le panze, con i pelacci, no, per me. Ah beh dicevo, quali panze poi, io ho visto solo tartarughe, vedrete qualche panza. Protezione, faccio parte di Greenpeace, protettrice delle tartarughe. Comunque io voglio ricordare la memoria di un grande presentatore italiano, Massimo Marino, Massimo Marino era noto, presentatore di Porcino perché faceva fare la volée alle ragazze e io oggi posso fargliela fare. La volée è questo, mi dai la mano, giri piano piano su te stessa, vai. Si è. Eh, vai. La volée, questo in onore di Massimo Marino ragazzi. Appresentatore Porcino, grandissimo Massimo. Grazie. Continu. Fai! Bric, 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 Bric! Bric, 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 Bric! Continu! Fai! Oh! Stop! 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 Fai! Brake, brake, brake Fait 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 Stop, 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 stop Stop, stop, stop 1 2 3 Quattro 5 Lo happened to why 6 By the way 7 beh Fait No stai tenendo! No prendi! No prendi! Vai! 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 Pronti! Pronti! Fermi! Fait! Pronti! 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 Fait! Pronti! Fermiamo! Fermato! Pronti! 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 puoi continuare sicuro che non mannò che fai tutto tutto che anche la tutela degli atleti prima di tutto dai la schiena Ascolti, 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 Ascolti! La testa aperta! Non c'è la forma! Vai, Massimo, vai! Puoi continuare? Non sono aperto. No, non ci sono, ci sono. Mi fa male. Oh, mamma mia. Ma fai a vedere anche lui. Anche lui. Mi fa male il piede. Ma non c'è la vera. Io ti metto questo. Aspetta. Dai, dai. C'è il cerotto tutto? No. Paolo. Mi sta a fare pressione a me. Scivolando sul ring, mi è venuto. Mamma mia. Fa veramente male, ragazzi. Eh, ci è venuto. Ma fermiamo. No, non ci sono. Ti stai a fare male a me. L'ultima ripresa. Vediamo che ci sono. Sì. Potete vedere un po' di ghiaccio. Eh. Non ci sono. No, non ci sono. Allora, un po' di ghiaccio. No, non si fece per te. Eh, non ci sono. No, non ci sono. No, non ci sono. vince con TKO perché non capisce che ha fatto il tecnico perché è uno degli avversari non può più continuare, quindi vince l'angolo blu, onore a lui perché c'aveva veramente una brutta ferita sotto il piede e anche solo pensate che a minacce fa male, pensate a combattere, però pure loro un match molto sentito, bravo Alessio, bravo Alessio, veramente forte, bravo, siete bravi ragazzi, grazie, grazie, anche a te come ti chiami tu? Luca, da dove vieni? Roma, lo sai che assomiglia a Scatizzi, mi ricordi? segriamo, attenzione, Seleva non battling va looked up 3, 4, 5, 6, 6 Dai lui, dai lui wollen wir Fai! Forza, forza! Fai! Dai, dai, usci! Dai, luchino! Schiva, schiva, buono! Buono, buono, buono! Vai! Esci, esci! Esci da lì! Vai, luchino! Vai, luchino! Vai, luchino! Dai, luchino! Così, via l'alante! Muoviti di più! Muoviti, muoviti, muoviti! Vuoi, vuoi, vuoi! Vuoi, vuoi, vuoi! Luchino, vuoi! Vuoi, sei più veloce, luchino! Ah, è! Dai, piondino che sei carino! Dai, 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 dai! Guardia, guardia, la guardia! Dai, lui! Chi è più veloce, lui! Eh, per me, ha già! Spera! 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 Spera, dice! Spera, dice! Spera, dice! Spera, dice! Spera, dice! Oh, Lugia Panoda! Spera, dice! Spera! Adesso, dà di due, adesso! Ci sono le quali sporo, qua! No, no! E' un bel lavoro, qui! Oh, si trova bene, ragazzo, eh? Sta benissimo, oggi! Ah, si trova bene, ragazzo! è la più bella a quella bionda lo scamo un pochino e niente è contento per il votare un milione vattene vattene alza sta guardia chiuso uno due fino valeone va uno due uno due vattene vattene alza sta guardia chiuso uno due fino vattene 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 continu vattene 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 chiuso vattene 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 uno, due respira 4 wow continui 7 vai perfect ok chiuso 1 2 3 vai non te può abbracciarvi 20 kg di più continui medico chiamo medico che è pezzo di carta se non la soffi al naso bravo chiuso 1 2 che? e te leni alza ste braccia alza le mani colpi le coppie dritti ho un legno senza paura stai in ste braccia stai! stai! 2 3 4 andiamo 6 7 ok vetti diretti vetti diretti vai vetti attaccati attacca vetti attacca vetti attacca vetti 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 1 2 guarda che entra il piaccio destro vetti vetti rosè di non mini vetti è un po' di sottotitoli aspetta, aspetta un attimo no, perchè quel periodo là era un po' di tempo che non mi avevamo più a fare pugilato facevo un po' a casa invece diciamo là ho ritrovato pure la cosa quindi ho ripreso l'università mi sto allenando bravo si, fra qualche mese e fra poco iniziamo il main car il nome? Francesco Francesco Mignone, da dove vieni? Benevento ti alleni, fai qualche sport un girato hai un po' di esperienza vero? ok però stai da un pochino freddo stiamo all'angolo rosso e qui abbiamo Sifat raccontaci un po' di te io mi chiamo Sifat vengo dall'Afghanistan io ho combattuto i miei miei grande applauso a Sifat dall'Afghanistan benvenuto a Sifat benvenuto su Strelka è loco è loco è loco è loco conchi vai vai dai dai vai caldo caldo vai 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 tira tiralo leva gli il parlo dentro dai lui vai bravo che colors Siamo un altro applauso a questo grande guerriero Finalmente Com'è il nome? Natale, Martinez Sei preoccupato? Tranquillo, sono in una trenerina E dove sei tu? Sono siciliano di Messina ma vivo a Milano E anni? 40 40 anni mi piace combatto Ma lui ha fatto un bel match Abbiamo Natale Martinez Però ha funzionato perché siamo incinta Non ci vieni Vai! Lavora al corpo! Abbiamo ci colpi sotto Ma lui, 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 lo ha studiato con me Vai! Vai, vai, vai Recuperati, scopri! Recuperati Alza le mani Alza le mani Dai devi lavorare, lavora, lavora con su sinistro Combina Combina Ora, vada al centro Ora, vada al centro Vada al centro Vedi destro Alla, destro Tu mi sembra C'è il gusto Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vada al centro Oh, vada al centro Pronti? Vai Natale Vai Natale Entra Natale Entra 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 Pronti Vai 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 Spira Respira 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 Vedi le braccia? Guarda le braccia Guarda le braccia Guarda Questa è l'immagine Stronti Ah Z哪 No Vedi le braccia Non c'è Non c'è Guarda le braccia Guarda 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 In Sto Guarda L'abbiamo vai 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 dai vai vai lemonade vai esci dal todo non c'è l'anno non c'è l'anno non c'è l'anno non c'è l'anno bello mi sono aperto no dai la cerniera la cerniera forza Natale non c'è l'anno non c'è la cerniera vai vai faccia addosso subito che sono il tempo vai Natale vai avanti con questo filipo vai a buttare esci da la Natale vai sotto sfila si vai i bracci dopo vai 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 Natale Natale a Luca chiudi chiudi bravo no c'è l'altro dentro che non vanno ti metti subito guardate le braccia addosso esci da lì esci da lì 10 secondi è per noi è per noi è per noi è per noi fai andate vai dai 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 attacca a te da lì fai attacca sei qua vieni qua vai 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 Vai! Vai! Vai, vada! Vai, vada! Vai, vada! PRAH! Ii, vado! Si è più bello così. forza 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 robina bravo bravo perniato perniato eee eee ciao 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 fermo qui niente apposso ok qui sono qui eccoci andiamo natale faccia addosso vai 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 questo stanzo di testo ma ci rende testo sopra vai vai con il testo somma vai con il testo somma vai col testo somma vai il tempo suona troppo tempo vai testo le no bello si sente rumore e questo è lo spiritagonismo in cui nessuno può perdere dai minuti, respira, respira pronti? vai! vai che fine, vai che fine, vai che stai liberati, vai! dai tutto adesso, vai! e vai, muoviti che cuore! vai! vai la nave! vai che stai assorando, vai indosso! chiudi tu, chiudi tu un angolo dai, caccia, dista pari chiudi tu, chiudi tu, stai avanti stai avanti, vada! vado tu, stai avvicino, è dentro! vada, vado, vado! vado, vado! vado vado! 10 segundo, vada! 10 secondi, vada! oh! , dentro , dentro . chiedo, posso fare un gruncio? E' questa breve cosa ti devo dire Voglio salutare il mio futuro figlio che nascerà da alcuni mesi e la sua bellissima madre, la mia amica Ha funzionato l'artonso? Sì è messicana ragazzi proprio tu poi che ti chiami martinez bell'incontro questo è lo spiro non c'è da chiacchierare nonostante le botte le cose l'avevamo detto su botte ma sotto non ci andiamo a fare una birra Allora con la decisione unanime vince l'angolo rosso Minotauro Natale come ti è piaciuto il sommet Scusate Scusate Qui ti è? Quali sporti hai? Proviso e ho portato MMA MMA ok Cosa kickboxing, qualche boxe? Sì sì Ok Tuoi opponent ha una buona esperienza 5-0 Scusate 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 E opzione Scusate Faisi Scusate schiava non sè sca Scusate 3, 4, 5, 6 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10 Dopo questo incontro faremo anche la prevenzione del miglior fighter della serata che voterà la nostra giuria Ma che è? Un match che è pittatuato questo? Mi premi per me si prende per te Dammi tu spalle Dammi tu spalle E' l'angolo rosso, grande ritorno del nostro Yakuza E' Emanuele Caperna Un applauso Come stai? Piacere che sei tornato Dai, buon match Buona fortuna ragazzi Buona fortuna Questi Vai Bologna Guardi Paganda Bologna Buona fortuna Sbagano Per portuna E' Fai Giro a co di finta Giro a co di finta Brava vai Giro a co di finta Brava vai Giro a co di finta Brava vai Brava vai Brava vai Vai continua E rientra E rientra Brava vai 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 Brava va vai Brava vai Siamo a ringerio Ah! Ma vedi che inizia io, non ci lasciano inizia io. Davide fai cazzo! Bubino! La! Un giocato! Oh! Gira, guarda A punto, vai primo Vai! Vai, vai primo Vai, vai primo Vai! Vai, vai primo Vai! Vai! Vai, vai primo Fight! Brake! Box Stop Stop! Box Tento, tento, tento Box Vai, vai primo I Coś To 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 da sotto muovi la testa e metti un altro gol ultimo cazzo fermi 10 secondi 15 forti 15 forti tu dira tu là tu dira tu là tu dira tu là terzo e ultimo round facciamo un forte applauso attento quando sta a calzare la guardia sotto sotto bravo vai fermi da sotto bravo 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 ferma bravo ho visto a camoccia bravo calca a stimare si forse sotto e uno vai ciao ci sta vai 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 continua non ti chiude da solo me lo ricordo fermi vai tre c'ha bravo sempre fermi sempre c'ha fermi vai vai Vai, dai! Rick? Cosa ne andando요? Dai Clappe... Non pericродare tu foco! Tu le metti hai! Bravo adesso... Tutti i pediti Fermi! Fai! Tempo! Tempo! Fai! Bene! Ti butto giù eh! Fai! 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 Stop! Bravo! 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 No! Se l'avevo sfidato, l'ho fatto io! Non voglio il colpo, o? Eh! Non voglio il colpo, o? Eh, sono nella posta! Si viene bene, questo! Bravo! Last point! Eccola! Vai se ne è imbazzisi io! Chi è qua? Oh! Trampare! Allora! I nostri giudici hanno deciso che... C'è un bel pareggio! Tutti e tre! Ora gli passiamo anche la parola! Hanno un po' del giro! Questo è l'unico caso del cioccolitore di Meradutti! Sì! Quassà! Adesso per i lati! Basta, venga! Ciao! 8 kg, giusto? Ma presentati! Mi chiamo Tommaso! Eh, regolato io! Basta? Soprannome? Non ce l'ho! Ersecco! Ersecco! Ah! Cicalone ha proposto! Ti aggiungo i soprannomi! Vai provo! A sei mano! Vedi, quello che mi sto subito! A tre, a tre, a tre! A tre, a tre! A tre, a tre! A sei mano! A tre! A tre! Piccolo, piccolo! Cammina! A sinistra! Abbrassi! Capito? Oh, oh, oh! T'ho detto dritto! Dritto! Fai! Dritto fa! Metti destra! Vai a sinistra! Alza la mano eh! Non stai fermo! Vieni, vieni, vieni! Vai a sinistra a destra! Aspetta! E sei calmo! Dritto! Alza la mano sinistra! No, vedi? Va bene, va bene, aspetta! Va bene! Vieni, vai, sinistra a destra! Quando ce l'hai? Quando vuoi! Alza le mani! Alza le mani! Alza, aspetta! Mani su! Alza le mani! Dritto! Dritto! Aspetta! Ok, non rimane eh! Alza le mani! Prima o alza le mani! Ohhhh! Arriba! Vai a destra! Vieni, vai a destra! Vieni! Vieni a destra! Vai a sinistra! Vai a destra! Non stai fermo! Fai a destra! Faccio a destra! Vai a destra! Vai a destra! Ma ci siamo la mano! Mi sto facendo! No, ma favore! bravo cinese bravo cinese bravo cinese ha colpito il corpo hai sentito Ma in realtà quella in faccia sei? Eh ma quello il corpo ho sentito... Dami un applauso Facciamo respirare Facciamo respirare Facciamo un applauso a questo ragazzo coraggioso Un applauso da Torino!